Un cordiale buongiorno, benvenuti all'edizione flash del nostro telegiornale. Dunque nel tardo pomeriggio di ieri è finita l'apprensione a San Concordio per la sorte di Danilo Logli, il 44enne lucchese di cui si erano perse le tracce da lunedì pomeriggio. I carabinieri di San Concordio sono stati contattati dai colleghi di Cescina i quali hanno avvertito che l'uomo si trovava all'ospedale della cittadina labronica in buone condizioni ma in stato confusionale. Logli è stato sottoposto ai controlli del caso. La sorella Ada che aveva denunciato la scomparsa appunto nel pomeriggio di lunedì appena appresa la notizia è partita per Cescina per accertarsi delle condizioni del fratello. Logli sposato, due figlie piccole, stava attraversando un periodo di crisi e lunedì dopo una discussione in famiglia si era appunto allontanato da casa con la sua bicicletta senza portafogli, documenti, denaro e cellulare e poi aveva fatto perdere le sue tracce. Ancora non sono chiari i dettagli appunto di questa vicenda, come l'uomo appunto in bicicletta sia potuto arrivare sino a Cescina. Magari altri particolari ve li daremo nel telegiornale di questa sera. Oggi pomeriggio alle 16.30 gli alunni della classe quinta della scuola primaria di Colle di Compito faranno visita alla Questura di Lucca per ricambiare la lezione sulla educazione alla legalità che era stata svolta in classe lo scorso primo dicembre 2011 dal personale della stessa squadra mobile e dell'ufficio minori. A seguito di quell'incontro i bambini hanno realizzato un progetto di elaborazione di racconti gialli in cui sono protagonisti i poliziotti e il loro quotidiano lavoro investigativo. Gli elaborati saranno consegnati al questore, il dottor Santoro, e ai bambini sarà concesso di visitare la nuova sala operativa con gli ultimi ritrovati tecnologici con simulazioni di controllo su strada da parte delle volanti. E adesso parliamo di noi. La tecnologia al servizio del cittadino di Lucca presenta Lucca Notizie, l'applicazione realizzata grazie al supporto dei nostri partner tecnologici Telnet e Sice, disponibile su Apple e Android e che informa su tutti i principali fatti del giorno. Vediamo. La tecnologia al servizio del cittadino. Nasce Lucca Notizie, l'applicazione disponibile su Apple e Android che informa su tutte le principali notizie di giornata. Scaricabile gratuitamente, Lucca Notizie si installa sul proprio smartphone per collegarsi in tempo reale con il sito di Lucca ed essere così sempre aggiornati sui fatti della giornata. La piattaforma informativa è divisa in cronaca e sport, ma Lucca Notizie permette anche di seguire in diretta il palinsesto televisivo e di raggiungere con un clic i gruppi di di Lucca sui principali social network. Ultima, ma non certo in ordine di importanza, la sezione di reporter che permette all'utente di caricare sui nostri server in tempo reale foto e video che la redazione potrà selezionare e mandare in onda. Come dire, ognuno di noi ha la possibilità di produrre contenuti e contribuire quindi a realizzare il suo palinsesto. Usare Lucca Notizie in gran parte del centro storico del capoluogo e nei comuni di Capannoli e Alto Pascio, presto anche a Porcari, è ancora più comodo grazie a Free Internet, la rete wireless, gratuita e senza bisogno di codici di accesso, realizzata da Telnet e di Lucca. E nel panorama delle applicazioni di nuova generazione vi segnaliamo anche Lucca4U, nata da un progetto della rendering domotica di Lucca con il patrocinio di Ascom Conf Commercio e il contributo di Telnet che ne renderà libero l'accesso nelle zone coperte da Free Internet. Un momento di riflessione e di conoscenza rispetto agli strumenti e alle forme che da un punto di vista amministrativo abbiamo a disposizione il circolo territoriale di SEL Sinistra e Libertà organizza un seminario formativo che si svolgerà presso la sede di via Barbantini 104 all'Arancio sabato 9 giugno dalle 9 alle 13. I relatori saranno il dottor Felice Birra, già segretario comunale di Lucca e di Capannoli, attualmente difensore civico di Porcari e il dirigente del comune di San Giuliano Terme e il dottor Perna. Questa iniziativa di SEL è stata collocata proprio pochi giorni dopo l'insegnamento del Consiglio Comunale immaginando lo strumento del seminario come primo momento di formazione e conoscenza delle forme amministrative. E fermano i preparativi per l'edizione 2012 della mostra delle vetrine di San Paolino, manifestazione inserita nei festeggiamenti per il Santo Patrono promossa dal locale comitato organizzatore che vede da sempre in ConfCommerce una sua convinta sostenitrice. Il tema prescelto per quest'anno dovrebbe essere quello di Lucca e le sue mura, sorta di omaggio al monumento simbolo della città in vista delle celebrazioni per il 500esimo anniversario. La mostra verrà inaugurata sabato 30 giugno e andrà avanti sino a mercoledì 11 luglio. E adesso parliamo di sport. Stasera le nostre telecamere saranno al Palasport di Viadana per gara 2 di finale playoff tra Arcantea e Dinamica Generale Mirandola. Ricordiamo che Arcantea si è aggiudicato gara 1. Potrete vedere la partita integrale con il commento di Marco Baldocchi domani sera alle 19.30 ed in replica alle 22.30. Ma sentiamo dalle parole di coach Roberto Russo come i biancorossi stanno preparando questa importantissima partita che potrebbe consegnare la promozione nel campionato di B1. Forse sono un pochino troppo pochi per vedere un'altra partita di questa intensità. Cosa ci aspetta per gara 2? Innanzitutto di capire quelli che sono stati gli sbagli e francamente vi posso garantire che sono stati tanti, tantissimi. Non mi aspettavo questa parte qua né emotiva né tantomeno tecnica perché nel primo quarto abbiamo sbagliato una determinata parte tecnica dovuta a una parte emotiva. Poi dopo ci siamo messi lì e abbiamo corretto quell'errore lì e poi fatto male per un'altra roba. Cioè francamente in una finale non ti puoi permettere assolutamente di fare questo tipo di errore qua. Non abbiamo ancora fatto niente, ci sentiamo comunque in vantaggio ma solo esclusivamente per la serie. Mettiamoci lì, cerchiamo di capire quelli che sono stati gli sbagli nostri e vediamo di migliorare gara 2. Dunque appuntamento da non perdere con il basket, il grande basket perché ricordiamo che l'eventuale successo di domani sera aprirebbe le porte della divisione nazionale di serie B e dunque una partita che speriamo potrà concludersi con una grande festa. Nel caso in cui Mirandola dovesse vincere, beh allora si dovrebbe ricorrere a gara 3 che si giocherà domenica eventualmente al Palla Tagliate di Lucca. Il calcio, il curatore fallimentare della Lucchese Libertas 1905 Andrea Murri ha fatto sapere la data della prossima asta per l'acquisizione di marchio e di altri oggetti che sono di proprietà appunto della Libertas. Ebbene il giorno fissato è il 27 giugno, mercoledì alle 11 presso la sezione fallimentare della Tribunale di Lucca in via Gallitassi. La base d'asta sarà di 21 mila euro quindi con un ribasso del 25% rispetto alla prima asta che era di 27 mila 500 euro. Non quindi si procederà come si sperava all'offerta libera. Intanto il curatore fallimentare Murri spiega anche di non aver più avuto alcuna notizia da Marco Affatigato il quale ricorderete qualche settimana fa aveva annunciato di aver acquistato lui il marchio dalla stessa Libertas un acquisto che però il curatore fallimentare aveva in qualche modo smentito e di fatti il titolo e il marchio andranno all'asta il prossimo 27 di giugno. E chiudiamo con il basket giovanile. Sabato dalle 15.30 alle 18.30 si svolgerà il terzo torneo, il terzo gran premio di mini basket provinciale riservato ai nati dall'anno 2001 al 2006, suggestiva la location Piazza Napoleone, Piazza del Giglio e Piazza San Martino che ospiteranno questa manifestazione organizzata dal centro mini basket in collaborazione con il comitato provinciale della FIP e qui hanno già aderito oltre 400 bambini. Saranno allestiti sei campi da basket ed alcune postazioni per le gare del tiro da tre punti su cui si metteranno alla prova i bambini dei centri mini basket. Verranno bambini dalla provincia di Lucca più due centri della provincia di Carrara. Alle 18 è previsto l'intervento del sindaco Alessandro Tambellini che ha dato il patrocinio come comune in quella che davvero sarà considerata ed è considerata la festa di chiusura dell'anno sportivo del mini basket. E questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, vi auguro buona giornata vi do appuntamento a questa sera a partire alle 19 con i nostri telegiornali. Con voi ci sarà Giulia Maggi, arrivederci.